Siamo in comune con il sindaco Mario Baccini il presidente del comitato spontaneo Isola Sagra proprio per parlare di Isola Sagra uno dei punti nevralgici di questo comune che ha diverse criticità che negli anni si sono accumulate e che meritano attenzione. Allora questa chiamiamola una sorta di intervista doppia io chiederei al presidente del comitato quali sono le criticità maggiori e al sindaco quali sono le prospettive su questo tipo di criticità. Allora Fabrizio Pagliuca uno dei vostri cavalli di battaglia da anni è quello dell'eliminazione dei vincoli a Isola Sagra a che punto siamo? Allora a che punto siamo poi magari ce lo spiega meglio il sindaco. A che punto siamo dal vostro punto di vista? Il sindaco andrà in avanti? Noi abbiamo certo abbiamo ancora una situazione di criticità idrogeologica in R3 che con il potenziamento delle idrovere e con altre situazioni che si sono succedute e che il sindaco ci spiegherà meglio sappiamo noi del comitato come sanno tanti tecnici che a settembre barra ottobre dovrebbero essere superate queste criticità diciamo. Perché ci tenete così tanto? Beh ci teniamo per la prima cosa per la sicurezza idrogeologica del territorio. Poi ci teniamo per i condoni che ci sono pratiche in evase, non ricordo il numero esatto 3-4 mila pratiche in evase di condono. In ultimo le costruzioni edilizie di Isola Sagra in particolar modo dei comparti C3 e comparti artigianali che ad oggi sono ancora fermi e non possono chiedere i pareri alla Regione Lazio. Tutte cose che il sindaco conosce bene, quali sono le prospettive? Le prospettive sono intanto che in piena sintonia con il comitato e con i cittadini di Isola Sagra e gli altri comprensori che presentano una problematica dal punto di vista del rischio idrogeologico di condividere le scelte abbiamo condiviso una scelta fondamentale che è di partire da uno studio serio una volta per tutte perché qui si sono succeduti uno studio di qua, uno studio di là. Oggi abbiamo chiesto all'autorità di Bacino segnatamente all'ingegner Casini che devo dire abbiamo avuto un riscontro molto positivo di una sensibilità inedita nei confronti della nostra città nel senso di occuparsi veramente dei nostri problemi e affidando a lui e quindi alla sua autorità uno studio che ci consenta di valutare le opere che già abbiamo fatto come comune per il superamento dei vincoli idrogeologici ma con un punto di riferimento importante che è quello di mettere in sicurezza il territorio da qualsiasi rischio perché stiamo vedendo a livello nazionale, internazionale, europeo quello che sta succedendo anche in aree non vincolate noi abbiamo delle aree vincolate nella nostra città ma anche in aree non vincolate quando c'è un problema di tempo, di maltempo eccetera abbiamo visto inondazioni mentre noi qui a Fiumicino abbiamo retto nonostante tutto, nonostante che abbiamo tutti questi vincoli allora per uscire da questa problematica abbiamo affidato già da qualche mese questo studio che sta in itinere io mi sono aggiornato su tutti i risvolti dello studio a settembre siamo d'accordo che ci sarà presentato e auspico che già da quel momento possiamo operare a declassare il vincolo secondo anche l'indirizzo dello studio e capire una volta per tutti quale opere potrebbero servire per azzerare il vincolo perché ce lo devono dire qualcuno perché se noi facciamo un idrovero in più poi i vincoli li possiamo azzerare però fino ad oggi questo non ce l'ha mai detto nessuno l'amministrazione comunale una volta per tutte vuole porre un punto fermo su questi problemi e dare una risposta ai nostri concittadini che giustamente e legittimamente hanno diritti su questi territori dove c'è un piano regolatore che gli consente non solo di pagare le tasse ma gli consente anche di edificare questa cosa oggi non è possibile perché il vincolo ce lo impedisce quindi tutto questo questa iniziativa ci porterà da qui a settembre e magari ci rivedremo con il presidente Pagliuca e tutto il comitato e tutti i cittadini per fare e discutere insieme questo risultato di questo studio bene effettivamente il territorio di Isola Sagra è stato sottoposto a più vincoli se ne risolveva uno ne nasceva un altro se ne risolveva un altro e ritornava il primo in una situazione diversa insomma è una situazione molto complicata già questo timing di settembre è una buona notizia altra criticità mi sembra che è quella della viabilità vogliamo parlarne? sì la criticità più grande di Isola Sagra è rappresentata da via dell'aeroporto ormai una strada troppo inadeguata ai flussi di traffico da e per l'aeroporto di Fiumicino e anche per Roma il viadotto sappiamo che è fermo manca l'acciaio vabbè le problematiche noi non le possiamo sapere tutte il ponte della Scafa sembra che sia pure quello nelle opere del giubileo ma non vediamo luce noi come comitati avevamo fatto delle proposte che giustamente non è che le deve accettare solo l'amministrazione comunale ma le deve accettare l'anas deve accettare la regione il comune di Roma e sappiamo che ci sono vari vari progetti in giro la criticità della viabilità è dovuta anche alla viabilità interna e questo è un problema che si lega al problema dei vincoli perché la viabilità interna la devono risolvere i comparti che andranno a costruire perché molti comparti di Isola Sagra devono costruire anche le strade interne insomma la viabilità cosa che conosci benissimo è uno dei problemi di Fiumicino anche qui quali prospettive? sì ecco io segnalo che noi in poco più di un anno io sono stato eletto circa un anno fa abbiamo subito avviato e esaminato questo dossier che è un dossier strategico sensibile della nostra città per evitare di soffocare nel traffico abbiamo rimesso in piedi una forte collaborazione con ANAS e con il comune di Roma stesso con l'assessorato ai lavori pubblici per quanto riguarda il viadotto ho chiesto e ottenuto di riaprire ovviamente in sicurezza il viadotto perché i lavori non iniziavano e nel frattempo abbiamo fatto una viabilità alternativa il corridoio C5, la Portuense, tutta una sede dove nell'ipotesi in cui si dovrà demolire e ricostruire questo viadotto noi possiamo avere una viabilità alternativa che ci consente di non morire di traffico. Detto questo tutto Trincea delle Frasche è l'altro nodo importante, sempre con ANAS abbiamo definito e proprio una conferenza stampa di qualche settimana fa qui in comune abbiamo definito i lavori e la collaborazione per rifare un cavalcavia anche lì su Trincea delle Frasche, superare i problemi dei semafori fare una rotonda sottostante. Con l'assessorato ai lavori pubblici di Roma ho approvato il progetto come amministrazione comunale di Fiumicino per il nostro ovviamente parere perché anche il progetto della scafa è stato ristrutturato, rivisto quel progetto precedente che non aveva tutti i pareri positivi c'è un nuovo progetto che ci consentirà di avere anche una fluibilità anche sulle ciclabili e tutto quello che ne consegue Ma c'è una tempistica sul ponte della scafa? Credo che, insomma, ente attuatore il comune di Roma, io ho dato il mio parere favorevole sul progetto che hanno portato avanti abbiamo dato l'ok, visto si stampi, perché a noi interessa, a noi di Fiumicino, che venga realizzato ma non ci interessa se è più o meno bello che venga realizzato e se deve essere funzionale quindi ponte della scafa, trincea delle frasche, viadotto e quel comparto riusciremo a metterlo in sicurezza per una armonia anche di viabilità poi dall'altra parte abbiamo tutta la problematica di Isola Sagra all'interno perché se si realizzerà il porto turistico croceristico noi avremo la straordinaria possibilità di avere risorse sufficienti per ridisegnare tutta la viabilità di Isola Sagra e collegarlo con le grandi arterie di viabilità perché oggi Isola Sagra soffre nella parte a sud di Isola Sagra di un degrado abbastanza importante nell'area del faro e ovviamente lì esiste un vecchio progetto perché se non si farà questa variante non è che non si farà niente si farà il vecchio progetto che prevede una grande intensità edilizia con 15-16 palazzi che verranno realizzati al posto di un parco che invece oggi è previsto ci sarà un investimento per il comune perché dobbiamo dirle queste cose ai cittadini ci sarà un investimento verso il comune di oltre 15 milioni di euro di investimenti per infrastrutture necessarie che erano previste per fare tricciate le frasche, oggi se tricciate le frasche la facciamo fare all'ANAS questi soldi li investiamo a Isola Sagra, 15 milioni non sono una cosa che troviamo per strada tra l'altro ci sarà anche la possibilità di avere anche una quota per ogni passeggero che scenderà a Fiumicino una quota che rimarrà per le infrastrutture, per l'ambiente, per la viabilità e soprattutto per tutto quello che poi l'indotto potrà portare quindi una risistemazione anche dal punto di vista ambientale importante certo, tutte le problematiche esistenti che sono state sollevate noi le abbiamo valutate, siamo anche noi preoccupati però abbiamo chiesto e ottenuto anche perché noi siamo ente attuatore perché il commissario del Giubileo che è il sindaco Gualtieri ci chiede com'è lo stato di avanzamento dei progetti e noi ovviamente siamo in linea con il commissario del Giubileo stiamo procedendo anche in questo senso poi abbiamo l'altra portualità dove trasferiremo la flotta Pescherecci nella Darsena che verrà realizzata dall'autorità portuale un po' più a nord del nostro litorale e lì ci consentirà insieme a una parte di chianteristica di trasferire la frotta Pescherecci di liberare il canale e lì anche rimettere in una cultura del bello tutta la nostra attività e poi c'è, ne discuteremo magari con il Presidente Faiuca in un'altra occasione c'è tutto il dossier aeroporto il dossier aeroporto su la possibilità di sviluppo ulteriore di questa grande struttura perché a me non mi interessa se l'aeroporto si allarga o non si allarga a me mi interessa come regge l'impatto nella nostra città io oggi sono preoccupato per l'inquinamento acustico per l'inquinamento atmosferico e se un progetto di riqualificazione generale dell'aeroporto mi consente di eliminare questi problemi se questa cosa sarà possibile lo vedremo quando verranno presentati i progetti e poi auspico che a Fiumicino nasca finalmente un movimento d'opinione non tanto per il no ma per il sì allo sviluppo della città perché io ascolto sempre gruppi di persone che mi vengono a dire siamo contrari a questo, siamo contrari a quello questo non lo vogliamo, questo non lo vogliamo ma io credo che oltre a questo bisogna dare voce tutti a quelli che invece tutte quelle persone, comitati, spontaneamente che mi vengono a provare e che mi dicono invece sindaco noi vogliamo crescere insieme alla città nel rispetto ovviamente della sostenibilità e dell'ambiente quindi diciamo a chi dice che l'amministrazione è ferma che non si vede nulla, in realtà si sta lavorando diciamo anche che le tempistiche per questi porti prevedono credo almeno un paio d'anni per vedere poi praticamente qualcosa di realizzato o sbaglio? Ma no, ma già il Porto Pescherecci stanno facendo dei lavori progressivi e noi siamo ovviamente attenti a come vengono svolti questi lavori e come il territorio cambierà anche in base a questi lavori c'è come abbiamo annunciato anche ai comitati a tutti coloro che ce l'hanno chiesto qual è il progetto urbanistico dello sviluppo della nostra città noi pensiamo a una città che va da oltre 100.000 abitanti oggi siamo quasi 90.000, siamo 85-86.000 abitanti cresciamo di mille persone abbiamo un progetto di edilizia scolastica ma abbiamo soprattutto un progetto di una nuova variante di piano regolatore che armonizzi non in metri cubi ma in servizi alla città in opere in un piano di sviluppo con le ferrovie stiamo cercando di trovare una sintesi per progettare anche delle metropolitane leggele cioè c'è un quadro che vogliamo mettere dentro uno strumento urbanistico che consulteremo e condivideremo con tutta la nostra città con i movimenti, le associazioni e tutti quelli che vorranno contribuire allo sviluppo nostro Presidente, una delle grandi criticità di Fiumicino ma lo dico a livello proprio di impostazione della città perché in realtà non ce l'ha è l'assenza di una piazza cioè Fiumicino è una delle poche città italiane che sostanzialmente non ha una piazza principale una delle 14 località, la più grande è proprio Isola Sacra e voi mi pare che state spingendo in quel senso beh sì, da tempo che si parla di una piazza per Isola Sacra che dobbiamo diciamo ai nostri anziani ma anche ai nostri giovani da tempo parliamo di piazza della Madonnella non sta certamente al comitato o ai cittadini individuare l'area possiamo parlare di piazza della Madonnella possiamo parlare del bellissimo borgo di Isola Sacra il borgo antico di Isola Sacra oppure un'altra area che l'amministrazione individua sempre a Isola Sacra ripeto abbiamo sempre i famosi comparti che devono lasciare le aree verdi i parcheggi perché non far lasciare a un comparto un'area dove andare a realizzare una bella piazza che sia diciamo una piazza un punto di ritrovo caratteristico che riscopra e valorizzi le origini di Isola Sacra insomma ci dirà il sindaco se magari ha in mente qualcosa del genere viste le criticità che vediamo nei posti che ho citato prima insomma Sindaco sì, intanto segnalo che a settembre inizieranno i lavori per la nuova Darsena lì ci sarà un punto di riferimento importante di qualità anche della nostra città è un impegno che si rivolge a una cultura del bello ho fatto rivedere il progetto perché ho spiegato che noi non dobbiamo fare i lavori pubblici tanto per farli e per investire finanziamenti ma dobbiamo farli in una cultura che rimarranno ai posteri insomma alla funzionalità quindi sarà una bella cosa la Darsena dall'altra parte consegneremo alla città da qui a breve il Palazzo dello Sport il Pala Fersini che sarà un'altra opera di straordinaria bellezza anche architettonica dall'altra parte con la Regione Lazio stiamo avviando perché quello che dice il Presidente Pagliuca è vero noi non abbiamo una piazza ma non a Isola Sacra in tutto il Comune manca una piazza è una situazione anomala perché dobbiamo rivedere il piano regolatore perché dobbiamo fare piazze, scuole e servizi quindi parlavo di un accordo con la Regione perché è Isola Sacra come tutti sappiamo la stragrande maggioranza dei terreni disponibili sono della Regione Lazio e quindi stiamo negoziando con la Regione Lazio la nostra direzione De Magni e Patrimonio segnalo che abbiamo istituito al Comune di Fiumicino per la prima volta una direzione con un nuovo dirigente con una nuova struttura proprio per mettere e censire tutti i beni comunali che prima erano nella confusione generale oggi siamo coscienti di quello che abbiamo quello che dobbiamo riportare a casa con la Regione Lazio risistemare gli accordi con gli enti sovrapposti come la Regione l'area metropolitana di Roma per ristabilire le regole di ingaggio noi abbiamo delle opere che sono state opere pubbliche realizzate come per esempio il Parco Bezzi che è stata realizzata un'opera pubblica che ancora non è del Comune di Fiumicino insomma lì è tutta questa anomalie quello che adesso si chiama Parco Tormaso Forti Parco Forti certamente e quindi anche tutte queste cose le stiamo sistemando per quanto riguarda una struttura che sta realizzandosi perché con la Regione ci hanno chiesto un piano di fattibilità è quello di tutta l'area dei bonificatori quella può diventare un punto di riferimento di tutta la comunità di Isola Sagra perché è un simbolo anche di Isola Sagra storico di identità perché in una piazza si deve riferire a delle identità anche precise questo è un progetto che sta andando avanti come quello anche della piazzetta della Madonnella che è un crocivia anche quello simbolico per Isola Sagra vicino alla Chiesa delle attività commerciali ma lì c'è il problema di un contenzioso con un privato che ci stiamo portando avanti da un po' di tempo e spero di risolverlo da qui a brevissimo quindi bonificatori darsena, Madonnella sistemazione anche di tutta l'area del faro della bonifica di tutta l'area del faro sono i punti di riferimento per far rinascere con la soluzione dei vincoli anche quel comprensorio così delicato sensibile e importante della nostra città che è Isola Sagra Bene, allora speriamo di essere stati utili a fare una panoramica un po' di quelle che possono essere le soluzioni alle criticità di Isola Sagra ci prendiamo l'impegno di fare un incontro del genere più in là anche sulle altre località in modo tale da fare dei focus ringrazio il sindaco Mario Baccini ringrazio il presidente Fabrizio Pagliuca e niente viva Fiumicino Grazie a tutti Squire Grazie a tutti